risponda risponda bavito clip rettiliani l'anima degli mortacci tua questa piccola cosa vi racconto finita la partita di roma milan letteralmente finito il furto del milan nei confronti della roma sia per cartellini gialli falli e partita in generale il risultato ehm manco il tempo di falla finì la partita manco il tempo di falla finì la partita che un pischello dopo 20 secondi m'ha taggato su twitter con scritto roma squadra de macellai mancini m giusto te giusto quei due coglioni te io taggato su twitter zano taggato su twitter potevano ti falla ma manco ma questo 20 secondi 20 secondi dopo a fine della partita praticamente e allora c'è stata una risposta che è andata virale è andata abbastanza virale che è stata una roba tranquilla raga è stata pensa a tu madre che sta qua che sta a fa chemio che ci ha ampiato il dente dall'altra parte sta più da questa parte che dall'altra è stata una risposta molto tranquilla che ha fatto un po' un po' scalpore un po' scalpore ma ma secondo me al di là di tutto perché poi se no passa che io mi metto lì e mi voglio trovare delle scuse per quando auguro delle cose alle persone di un certo tipo a parte chi conosce chi conosce come mi muovo su twitter a parte quello io penso che le risposte che vengono date alle persone vanno in base a quello che le persone ti dicono te offrono te domandano e via dicendo ma uno del genere ma che gli devi risponde eh ma effettivamente per dici bacco secondo me il tuo pensiero non è dei migliori le persone si sconvolgono per le risposte che alle volte diamo a delle persone che ma che cazzo di risposte gli devi dare direi allora non gli rispondi eh no ma che cazzo vuole ma gli potremmo rispondere ma è molto più facile rispondere a uno che dice una cazzata che risponde a uno che dice la verità no per quello che non rispondo a è per quello che 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 ancora sono vivo perché ogni volta che qualcuno prova a dire qualcosa di brutto di me dice sono stronzate 18.000 argomenti dove insultamme dove prendemme dove fregamme e parlano sempre delle bestemmie che mondo che mondo allora come va voi tutto bene che avete fatto ieri vi siete drogati hello clochard ciao